Il governo ha deciso di far pagare alle famiglie oneste che pagano ogni anno la tassa rifiuti anche i soldi di coloro che la tassa rifiuti non la pagano, i famosi utenti immorosi, disonesti. Questa è una profonda giustizia che la Lega Nord ha chiesto di cancellare e il governo e la maggioranza hanno risposto picche, hanno continua voglia di drenare risorse e soldi dalle tasche dei cittadini.